Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Maika Randazzo, uno dei volti più discussi dell'ultima edizione di Temptation Island, continua a far parlare di sé anche a show concluso. La trentenne romana, famosa per il suo avvicinamento a Lino Giuliano, il fidanzato di Alessia Pascarella, ha recentemente deciso di rompere il silenzio sui social, rispondendo alle critiche e agli attacchi ricevuti. Durante il reality, Maika aveva instaurato un rapporto speciale con Lino, scatenando l'ira dei fan di Alessia. Dopo la fine del programma, i due hanno continuato a vedersi, ma la loro frequentazione si è interrotta presto. Tuttavia, questo non ha fermato le polemiche. Maika è stata duramente criticata sui social per il suo comportamento, accusata di aver mancato di rispetto ad Alessia. Stanca delle offese, Maika ha deciso di rispondere attraverso le sue storie Instagram. Nel suo messaggio, ha voluto chiarire la sua posizione, spiegando di non voler fare la vittima e sottolineando come fosse preparata a ricevere critiche, ma non ha questo livello di cattiveria. Ha condiviso alcuni dei messaggi offensivi ricevuti, tra cui insulti pesanti come «Fai schifo», «Sei vergognosa» e «Sto per vomitare». Maika ha voluto ribadire di essere sempre stata se stessa durante il programma e di non aver mai mancato di rispetto a nessuno, essendo entrata come single e affrontando un percorso individuale. Nel suo sfogo, ha fatto un appello a tutti ricordando che non tutti hanno la forza di sopportare certi «colpi» e che le offese possono causare danni morali ed emotivi irreversibili. Nonostante tutto, ha ringraziato i suoi follower per il supporto e l'affetto, apprezzando coloro che non si sono fermati a giudicare il suo ruolo ma hanno guardato oltre. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.